Vado a salutare Giuseppe Conte, la saluto così però Presidente, con la manifestazione si è tenuta a Roma, pro Palestina. Ben trovato, intanto buon pomeriggio, fatemela vedere. Grazie a tutti, grazie a tutti. Siamo qua con tutte le campate internazionali, stiamo facendo un corteo per mostrare la nostra rabbia dopo gli ultimi fatti anche di Rafa. Volevamo deviare per mostrare ancora più fortemente la nostra rabbia, la polizia ci ha risposto lanciando lacrimogene a grappolo. È una misura spropositata e ingiustificabile del dispositivo di forza dell'ordine. Allora intanto saluto il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ben tornato, come sta Presidente? Ben risentita, buon pomeriggio a tutti. Io bene, in piena campagna elettorale. Siamo qui in San Severo, provincia di Foggia. Quindi è a casa? Beh, questo è un territorio assolutamente amico, sono luoghi da me conosciuti molto bene. Immagino. Senta, Presidente, ho moltissime domande da farle. Poi arriviamo anche alla guerra, visto che siamo partiti da quelle immagini di Roma. Questo fine settimana abbiamo girato le immagini che le ho mostrato. E io mi sottopongo disciplinatamente al suo interrogatorio. Vado dritta. Perché un elettore dovrebbe votare per il Movimento 5 Stelle? Molto semplice. Perché tutti adesso parlano di pace e siamo in campagna elettorale. Tutti parlano di maggiori investimenti alla sanità e siamo in campagna elettorale. Ma gli europarlamentari che sempre coerentemente hanno votato contro l'invio di armi, anche un'ultima risoluzione al Parlamento europeo qualche settimana fa, sono stati tra le forze italiane il Movimento 5 Stelle. Gli unici che hanno votato contro Italia e la sanità, meno 13 miliardi, che porterà il patto di stabilità, sono il Movimento 5 Stelle. Quindi perché il Movimento 5 Stelle è coerente. Assolutamente coerente, coerente contro la logica della solidarietà, dettagli alla sanità, all'istruzione, alle politiche del lavoro che ci porterà questo pacco di stabilità che Meloni ha sottoscritto col sorriso in base all'accordo franco-tedesco, gli unici che contrastano la logica dell'escalation militare e che da sempre hanno detto che purtroppo non si è profeta in patria, che conveniva assolutamente da subito investire i negoziati in pace. Adesso avremmo sicuramente una via d'uscita che invece non c'è rispetto all'orlo della Terza Guerra Mondiale. Arriviamo alle guerre. Le chiedo che numeri dovrebbe prendere il Movimento 5 Stelle per poter contare e quindi quale numero la renderebbe orgoglioso. Patuanelli ha parlato di un 10%. Patuanelli noi l'abbiamo fatto eleggere nella circoscrizione della Campania, quindi ha imparato bene quelle che sono le logiche della scaramanzia campana. In realtà, guardi, non è neppure importante il numero perché noi abbiamo dimostrato che con un gruppo di europarlamentari nella scorsa legislatura europea siamo stati determinanti per eleggere la Commissione von der Leyen, per imporle una transizione ecologica, per imporle politiche del lavoro e quindi un'Europa sociale più verde e più equa. Dopodiché mi faccio fare un'agenzia. Un gruppo che si colloca dove? Prego. Perché lei ha detto che si collocherà in un'area progressista. Non le posso. Ci collocheremo in un'area progressista, l'ho detto, sono, già abbiamo avviato e siamo a buon punto, però questa sorpresa non la posso anticipare prima del voto, mi creda. Non c'è verso. La preoccupa l'astenzionismo, a quanto pare, sarebbe soprattutto al sud, dove voi siete molto forti. Guardi, l'astenzionismo mi preoccupa come cittadino prima che come politico, perché siamo davanti a un bivio. I cittadini devono capire che queste elezioni europee coincidono con un momento storico decisivo per l'Europa e il mondo intero. C'è da scegliere guerra o pace, da scegliere austerità o politiche espansive. C'è da scegliere se ancora indulgere, chiudere un occhio sulla corruzione o contrastarla a tutti i livelli. C'è da scegliere se vogliamo ancora più diritti. Pensiamo alle donne e al divario salariale. Se vogliamo abbreviare la settimana lavorativa. Se vogliamo un reddito europeo di cittadinanza. Tutte queste cose, il nostro impegno è portare con coerenza, sempre come abbiamo fatto, anche a livello europeo. In Europa si decide anche dei destini italiani. Allora, la porto a parlare delle guerre che sono in corso, però prima le faccio fare un passaggio da Piazza del Popolo. Avrà visto le immagini, probabilmente il ministro Nordio che arriva e c'è un piccolo incidente, non lo fanno salire sul palco. Vediamo insieme le immagini e poi le chiedo ovviamente la riforma della giustizia. Scusate, ma devo prima capire dove devo andare. Scusate, ma devo dire che non è previsto di fare. Non lo so, ma è almeno da io che devo dare un spazio. Scusate, ma è la piazza. E allora torniamo a te. Scusate, ma è previsto di fare. Scusate, ma è previsto di fare. Grazie. 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 Aspettiamo che arriva... Non è meglio se andiamo al sud. No, perché ci stavano... Troppi giornali stavano a Salerno. Allora, anche se sono i giornalisti, non è che posso stare lontano. No, perché non vedo altri. No, perché non vedo altri. Scusate, ma se parla, ma come? Gli altri ne sono. Eh, allora, sono anche uno. No, qui c'è neanche uno. Ci sono questi. Io faccio una partiera che non ce l'idea, ma... Ma c'è solo loro che sono selezionati che sono di staff. Non c'è solo. Non c'è solo. Non c'è solo. Insomma, è andata così. Poi alla fine l'abbiamo visto sul palco. Però c'è stato questo lungo momento in cui il ministro Nordio si aggirava, diciamo, nella piazza. E dopo di che le chiedo, Conte, che idea si è fatta della riforma della giustizia che è stata varata qualche giorno fa? Con l'applauso, Consiglio dei Ministri, no? Guardi, più che un'idea mia è un fatto abbastanza oggettivo. Siamo di fronte a forze di maggioranza che non hanno nessuna intenzione di migliorare il servizio giustizia a favore dei cittadini, degli imprenditori. perché se volessero agire in questa direzione dovrebbero investire di più per noi magistrati, assumere anche personale ausiliare per nuove dotazioni informatiche. Invece cosa pensano a fare? Pensano a mettere le procure sotto il cappello del potere esecutivo, del ministro di giustizia di turno. Loro dicono che abbiamo scritto che l'autonomia è sacra. Dove l'hanno scritta? Scusi. Questo è il programma di Licio Gelli della P2. È sempre stato il progetto di chi ovviamente vuole continuare a contaminare affari e politica, silenziare le inchieste e mettere i magistrati in un docile stabulario per poterli controllare meglio. Ma noi non lo permetteremo, come pure, scusi, ma tutte le riforme che stanno facendo, i vari obiettivi di limitare le intercettazioni, gli strumenti investigativi, se io riduco le intercettazioni a 45 giorni, che significa che dal 46esimo giorno mi interessa più che cosa fa l'indagato, se io riduco la possibilità di utilizzare il Troia, l'inchiesta della Liguria di Toti e compagni. Oggi non ci sarebbe proprio... Qual è il filo rosso che tiene insieme le questioni, Conte? Ma il filo rosso è molto chiaro. L'obiettivo è la politica, anziché in modo responsabile, fare pulizia al proprio interno rispetto al malaffare, rispetto alla corruzione. la politica non vuole farsi controllare e giudicare dalla magistratura. La classe politica che abbiamo si ritiene al di sopra della legge. I comuni cittadini che avete qui possono andare assolutamente indagati in prigione e possono assolutamente essere maltrattati per loro, mentre la classe politica no, deve avere corsie preferenziali, addirittura spazi di... Mi viene in mente la vicenda di un candidato del Movimento 5 Stelle per il Consiglio regionale, credo si chiami Marco Allegretti, mi corregga se dico una sciocchezza, candidato in Piemonte per il Consiglio regionale che, poiché indagato, mi pare abbia fatto un passo indietro. Lui dice, io sono certo di dimostrare mia nocenza, ma a tutela del partito, credo. Allora, guardi, dottoressa, mi dà l'occasione di parlarne. Questa è una vicenda, forse non molti telespettatori la conoscono, è di questa mattina. Questa mattina Allegretti, che è candidato con noi nel Movimento 5 Stelle nella lista regionale per il Piemonte, ha scoperto da un quotidiano che ci sarebbe una presunta inchiesta a suo carico sulle sue società. Lui è Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Asti, uno stimato professionista, persona serissima. Sapete che ha fatto? Si è dimesso. Come da giorni noi dicevamo che non avevamo un'inchiesta. Adesso ci sarebbe questa inchiesta. Mi ha chiamato prontamente, mi ha detto, caro Presidente, io ho un senso dell'onore, sono assolutamente innocente, non so di che cosa stanno parlando in queste ore, però faccio subito un passo indietro. Mi ritiro per il mio senso dell'onore, per il prestigio delle istituzioni della regione e perché condivido pienamente i principi di legalità e trasparenza del Movimento 5 Stelle. Sa qual è l'obiezione, Presidente, che viene fatta? Questo noi siamo. L'obiezione, io capisco perfettamente il messaggio, l'obiezione che viene fatta assolitamente in queste circostanze è se questa è una persona di valore e non ha commesso assolutamente nessun reato, probabilmente la regione Piemonte ci sta rimettendo per il passo indietro di questa persona, perché poi si dimostrerà che non ha commesso nessun reato, ma nel frattempo magari al suo posto sarà eletto qualcuno che non merita quel posto come lo merita lui e quindi i magistrati avranno deciso chi fa politica e chi non la fa. Questa è l'obiezione. Allora, ascolti, ma l'ingegnere Allegretti in questo momento, essendo una persona per bene, non essendosi candidato con l'obiettivo di fare il lobbista o fare affari, per lui è prioritario chiarire questa vicenda per un suo senso morale, etico e per non prestarsi a strumentalizzazioni, dopodiché lui chiarirà la vicenda e vedrà che ritornerà in politica con tutti gli onori del caso. Quello che le dice l'obiezione sa cosa significa? Che noi, tutti gli indagati d'Italia, addirittura di fronte a comprovati fatti, una truffa aggravata per Covid, circostanziata, documentalmente. Sono candidati e vengono pure eletti. Il governatore Totti ai domiciliari ce li teniamo sempre perché questa logica di confondere la responsabilità politica e quella penale sa cosa porta questo finto garantismo che non c'entra nulla il garantismo? No, no, ma qui stiamo parlando di opportunità politica. Io capisco perfettamente il suo ragionamento. Qui parliamo di opportunità politica. No, perché attenzione, attenzione, il ragionamento è che noi, tutti gli indagati d'Italia, anche di fronte a comprovati casi di corruzione, ce li teniamo fino alla sentenza passata e ingiudicato. Sa cosa significa? 8-10 anni per una sentenza che passa ingiudicato in Cassazione. Questa è la distruzione della politica. Dove sarà d'accordo con me la vera riforma della giustizia che ci aspettiamo è una riforma della giustizia che incida fortemente sui tempi perché una sentenza che arriva dopo 8 anni è una sentenza ingiusta per definizione probabilmente. È quello che le ho detto prima. È quello che le ho detto prima. Una classe politica seria continua a quello che avevamo iniziato a fare noi. Investe con risorse nuove per avere più magistrati, più personale, ausiliario, più dotazioni informatiche. Prima di salutarci, Presidente, voglio sapere di lei delle guerre. La guerra, le guerre. Voi avete anche la parola pace nel vostro simbolo per l'europeo. La domanda che le faccio è, a partire dal fronte medio orientale, arrivano notizie. Netanyahu sta prendendo tempo. Non ha detto un no a questo accordo rispetto al quale Hamas avrebbe detto sì e che è un accordo preparato da Biden. Lei è fiducioso? Mi dice che idea si è fatto? Guardi, io penso questo. Che abbiamo una grandissima responsabilità. Chi ci governa insieme a tutti gli governanti dell'Europa e anche del fronte occidentale, notoriamente un fronte amico, alleato di Israele, ha una grande responsabilità. Perché la pagina che si è scritta sul massacro di Gaza, una pagina che è stata arricchita ogni giorno di tanti civili palestinesi uccisi, caduti sotto le bombe, donne e bambini, è una pagina incancellabile. L'ignavia degli amici di Israele, a partire dal nostro governo, che per tre volte si è astenuto davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite, rimarrà incancellabile. Detto questo, mi auguro che stanotte, stasera, adesso, Biden finalmente venga convinto a rendersi conto che è solo pura follia quella strategia militare che ha perseguito per tutti questi mesi con le conseguenze che abbiamo sotto i nostri occhi. Ha detto Biden e forse voleva dire Netanyahu oppure voleva dire Biden? Netanyahu, Netanyahu. No, perché sai che poteva essere invece che un lapsus una dichiarazione. No, 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 attenzione. Però io non mi nascondo mai di fronte alla realtà delle cose, sai che parlo chiaro? Questo è stato anche possibile perché Biden dall'inizio, sbagliando, ha offerto copertura politica e militare a questa reazione sproporzionata in violazione del diritto umanitario. Io l'ho denunciato dal Movimento 5 Stelle e da subito. Poi ovviamente Biden ha corretto la rotta, l'amministrazione americana si è resa conto che in questo modo... Beh, e c'è una pressione oggettivamente molto forte, no, su Netanyahu da parte dell'amministrazione americana. Si è fomentato l'antisemitismo in tutto il mondo in questo modo. Però sicuramente la copertura politica militare iniziale è stata lì, anche bisognava dettare subito le condizioni del rispetto del diritto internazionale umanitario. Una reazione del genere non doveva essere permessa, in modo più chiaro sin dall'inizio. L'altra guerra, parliamo della guerra in Ucraina, al momento la questione sulla quale si discute, si discute molto, è la questione di come devono essere utilizzate le armi che noi inviamo in Ucraina. Noi intendo come Occidente, come lei sa, gli Stati Uniti, in riferimento a Kharkiv, ma anche diversi paesi europei, hanno detto che l'Ucraina le può utilizzare anche in territorio russo. È una discussione questa che dal suo punto di vista dove cade? Qual è il punto di rottura di questa discussione? Scusi, ma non le sembra una follia questa discussione? Ma ci pensi un attimo, no? Noi, il fronte Nato ha accettato la strategia dell'escalation militare, ha accettato di compiere passo dopo passo, di misurarsi militarmente, di riportare e di scommettere, come ha detto Giorgia Meloni più volte anche in Parlamento, sulla vittoria militare sulla Russia. E adesso secondo lei abbiamo mandato delle armi e non le utilizziamo, non le facciamo utilizzare se c'è necessità di reagire? Adesso sono senza truppe e non asseconderanno, come sta dicendo Macron, anche l'invio delle truppe, mancano i combattenti, le armi non si possono utilizzare senza i combattenti, senza le forze militari. Quindi è ipocrita questa discussione, lei dice perché si è fatta una scelta a monte. Ma assolutamente, adesso, guardi, è una discussione soft, sa perché? Perché siamo in campagna elettorale. Un attimo dopo ci stanno trascinando sull'orlo della terza guerra mondiale ed è tutto conseguente, tutto folle. Questo perché? Perché non voglio ammettere di aver commesso un errore di previsione. Non voglio ammettere che un investimento iniziale di tutte queste energie di sforzi diplomatici verso un negoziato di pace a questo punto ci avrebbe portato una soluzione. Vogliono la guerra perché non stanno più ammettere davanti alle opinioni pubbliche che hanno sbagliato previsione. Presidente, la previsione potrebbero risponderle che una previsione facile facile è che se non li aiutavamo a questo punto l'Ucraina non c'era più. Però ovviamente io non posso aprire il dibattito con lei. C'è un'ultimissima cosa che le devo chiedere. Ormai la storia le faccio solo una battuta. Borghi e Mattarella, mi dia una risposta perché devo chiudere. Borghi e Mattarella, quanto è stata sgrammaticata? È stato indegno l'attacco? L'uscita di Borghi. Ma più che altro, più che sgrammaticata dal punto di vista istituzionale è completamente indegna. Indegna un attacco del genere scomposto, sconclusionato di Borghi al presidente Mattarella. Quando si parla del presidente Mattarella si abbia riguardo perché Borghi non ha nessuna legittimazione a attaccare in questo modo con questi argomenti il presidente Mattarella. Presidente, buon lavoro e buona campagna elettorale. La saluto e la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. Alessio, che succede? Il risultato del sondaggio. Le faccio fare un applauso da Sansevero. Addirittura. Lo sente? Addirittura. Grazie, grazie. Continuate a guardare Tagadà, Alessio.